Il Presidente Mario Olivero, Presidente della Regione Calabria, chiediamo l'importanza di iniziative come questa del Banco Alimentare qui in Calabria. È importante perché il Banco Alimentare è una struttura che svolge una funzione di grandissimo valore sociale. Il Banco Alimentare è il punto di riferimento di una rete di associazionismo che consente di far fronte alle aree del disagio sociale, alla povertà. Tantissime famiglie vengono raggiunte attraverso l'azione capillare dell'associazionismo che si raccoglie intorno al Banco Alimentare e trovano sollievo attraverso interventi di carattere e di sostegno alimentare. Quindi è importante una funzione di supplenza anche per il ruolo delle istituzioni. Laddove non arrivano le istituzioni arriva il Banco Alimentare e naturalmente anche una funzione di coesione sociale. Presidente, è anche un modo per combattere gli sprechi che purtroppo oggi noi per la sovralimentazione, anche il Papa ne ha parlato, è importante dedicare un po' del nostro tempo anche a eliminare quello che è una piaga che è poi in fondo la sottalimentazione di alcuni popoli ma anche degli italiani stessi nuovi tipi di povertà. Assolutamente sì, è una funzione di ridistribuzione anche di sovrapproduzioni alimentari che altrimenti verrebbero distrutte. Naturalmente con il paradosso che da una parte c'è una parte della popolazione che soffre per le condizioni di reddito, di povertà e dall'altra invece c'è chi spreca e si tratta di correggere questi squilibri ma nel frattempo si tratta di intervenire. Il Banco Alimentare svolge una funzione che deve essere apprezzata e deve essere sostenuta e noi la sosteniamo. Grazie mille Presidente Oliverio, sappiamo che deve scappare. Buona serata. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.